Ciao, questa mattina avevo l'esigenza di trasportare l'informazione contenuta all'interno di un vettore poligonale verso un altro vettore poligonale composto da poligoni più piccoli, più o meno contenuti all'interno di questo vettore. In classica dove effettuare il tipico spatial join. Ora in questo video vi faccio vedere come è possibile effettuare questa operazione con un semplice script in SQL attivato all'interno di PostGIS. I due layer che andremo a utilizzare sono questi, questo grigliato creato all'interno di QGIS LTR, la versione ormai da poco pubblicata, la 3.4. e un altro vettore di poligoni più piccoli, esagonali, creato sempre attraverso UGIS con la funzione praticamente di create grid, quindi in maniera molto automatica e molto semplice da attivare, non te la farò vedere perché è davvero banale. E utilizzeremo questi due vettori per effettuare un semplice test. Allora, quello che voglio ottenere io è che al termine di questo test venga generato praticamente un nuovo vettore di tipo poligonale che oltre a queste due informazioni che contenga anche l'informazione relativa all'area di ogni singolo esagono e anche l'informazione relativa alla tipologia che è presente all'interno del vettore di poligoni quadrati. Quindi passiamo subito in PostGIS. Eccoci in PostGIS, o meglio PostGIS, ho creato già un database in cui ho importato i due grigliati che mi interessano. Andiamo subito ad attivare la console per inserire il nostro script. Lo script che andremo a inserire sarà praticamente questo qui. Ora te lo spiego con calma. Allora, cosa dice praticamente questo script? È davvero il classico script che lo spazio aggiorni. Allora, posto che da griglia quadrata, cioè quella che abbiamo visto in precedenza, che vado a definire A e griglia esagonale che vado a definire B, mi devi definire l'intersezione, o meglio il STContents va a definire quello che viene contenuto in un poligono rispetto a un altro. In pratica mi vai a definire questo contenimento del STPoint on Surface, praticamente il centroide contenuto realmente all'interno di un poligono. Ora mi spiego in maniera più dettagliata. Allora, come puoi vedere, io qui ho questa griglia esagonale in cui ho una serie di non solo semplici esagoni, ma anche delle figure un po' strane. Mi sono divertito a creare unendo un po' di esagoni. Ora, il centroide, cioè il punto di equilibrio, va il centro di massa, per definirlo, di un esagono ovviamente capiterà al suo centro. Il centroide di questa U rovescia è probabile che capiti all'esterno del centro, quindi questo è un poligono convesso, con un poligono convesso anche questo, questo, questo e questo qui. Ciò significa che nel momento in cui io vado a definire, siccome voglio utilizzare questi centroidi per andare a capire quanti di questi centroidi cadono, quali di questi centroidi ricadono all'interno di ognuno di questi quadrati, nel momento in cui, in maniera erronea, uno di questi centroidi cade all'esterno della figura da cui è stato generato, può essere, quindi, questo centroide erroneamente conteggiato e, quindi, può essere erroneamente associato un valore piuttosto che quello corretto. Dunque, io con questa funzione, che mi è stata indicata sulla lista GeForce da una serie di persone molto competenti, come gli utenti di Grego, Marco, Ivano e Alessandro Furieri, appunto, utilizzando questa funzione, posso forzare la generazione di un centroide che ricada realmente all'interno della figura che l'ha generato o, quantomeno, sul bordo. Quindi, tornando a noi, io praticamente in questo modo vado a dire che i centroidi della griglia esagonale devono ricadere non solo all'interno della figura stessa l'ha generato, ma, grazie alla funzione seti constant, devono poi prendere un'informazione dal quadrato in cui ricadono, quindi, dal quadrato che appartiene, appunto, a griglia quadrata. E qual è l'informazione che mi serve? È tipologia. E lo vado, appunto, a specificare qua. Quindi dico, in questa parte qui di select, che mi serve feed geometry eletto di griglia esagonale. Quindi, questo b, che c'è qui. Griglia esagonale. E il feed, quindi, l'id di griglia quadrata insieme con quell'altro dato che mi interessava, che è la tipologia. Poi vai ad aggiungere, a questa selezione che crei, anche un campo area in cui mi vai a definire l'area di ogni singolo di ogni singolo esagono o comunque figura esagonale calcolata in ettari. Andiamo a vedere, appunto, il risultato di questa nostra elaborazione. Come vedi, la query è molto, molto veloce. Ora, questo è solo tabellare. Andiamo a creare una view. La chiamo spatial join in modo da poterci richiamare giusto, questo qui è un errore. La colonna feed è stata specificata più di una volta. Io questa la chiamo feed q. Sì, mi ricordo che è il dd della griglia quadrata. E questa ora la posso andare a caricare questa view che mi è stata innanzitutto generata qui. Eccola qua. Posso andarmela a caricare all'interno di QGIS. Già mi ero connesso al db spatial join ed ecco qui la mia griglia esagonale in cui ora sono presenti anche i dati relativi alla griglia quadrata. Andiamo a effettuare un confronto. Ecco, questa era la griglia esagonale di origine e questa è diciamo la griglia esagonale risultato del nostro spatial join utilizzando però quelli che sono i centroidi dei poligoni. di QGIS.